Le folate del Piacenza non sono sufficienti per piegare un San Colombano per nulla eccezionale ma che sfrutta un paio di dormite della difesa bianco-rossa. In entrambe le circostanze i gol derivano da un paio di mischie susseguenti a calcio piazzato. Nel primo tempo al 26esimo è Odi dal cuore dell'area a Trafiggere Serena che sostituisce l'infortunato Ferrari a riposo precauzionale al pari di Volpe Martinez. Come detto il 4-3-1-2 di Viali vive su alcune fiammate che nella prima parte di gara portano la firma di Marrazzo e Martino. Chiude increscendo il Piacenza che nonostante la mini-rivoluzione operata da Viale all'intervallo perviene al pari grazie a un rigore di arena frutto di un atterramento in area di Orlandini. Cortesi è l'uomo in più del secondo tempo con il Piacenza che però non prosegue con l'incedere determinato dai primi minuti. In zona arretrata l'uscita di Tognassi si fa sentire e in alcune circostanze si pasticcia in fase di possesso palla. Il gol del nuovo vantaggio lodigiano arriva però grazie a un'altra punizione da sinistra di Colombi. Sbuca Zuppetti ed è 2-1. Il predominio territoriale del Piacenza successivo allo svantaggio è piuttosto netto ma sterile. Prima sconfitta stagionale ma soprattutto ancora parecchio lavoro attende William Viali e la sua truppa. Ora i biancorossi sono attesi al primo impegno ufficiale domenica prossima alle 18. Al Garilli arriverà infatti la Correggese per il prologo di Coppa Italia. Chi vince raggiungerà il Fidenza già qualificato di diritto al primo turno. Chi non passa per turni preliminari è il Pro Piacenza che prosegue con il programma di allenamenti amichevoli. Anche gli uomini di Franzini saranno in campo domenica per una sfida priva però di posta in palio. Alle 16.30 amichevole con il salso maggiore, eccellenza, sull'impianto di San Pillegrino Parmense. Promette invece divertimento il triangolare cui i rossoneri prenderanno parte mercoledì 21 agosto. Fiorenzuola e la Fidentina di Mazza sono le avversarie al comunale valvardese con inizio fissato alle 20. Dopodiché anche per Cazzamalli e compagni sarà tempo di gare vere visto che il 25 agosto scatterà il primo turno di Coppa Italia. Dalla sfida tra San Colombano, Gianna e Arminio uscirà il primo avversario che farà visita ai piacentini e al Siboni.